noi abbiamo usato fino ad ora public e private ma in realtà ce n'è anche un altro che è lo specificatore protected lo vedete qua se non metto niente si parla invece di accesso friendly ma vi invito a non utilizzarlo mai vediamo quali sono le differenze questo argomento va questo discorso vale per le classi vale per i metodi e per gli attributi adesso parliamo un attimo di attributi allora un attributo public è utilizzabile da qualsiasi classe anche al di fuori del package di definizione quindi si può usare ovunque per cui se io qui avessi scritto nella classe cerchio invece di private se avesse scritto public nella classe test avrei potuto tranquillamente accedere a raggio alla variabile raggio senza usare il metodo che traggio vedete che non mi da errore però questo non lo si fa perché non lo si fa perché bisogna rispettare un principio importante della programmazione orientata agli oggetti che il principio dell'information hiding per cui la struttura di un dato deve rimanere privata affinché nessuno nessun programma all'esterno della classe possa andare a modificare i valori della delle variabili interne causando eventualmente problemi ovviamente io posso e dichiarare una variabile public però è sconsigliato e da evitare c'è però un altro specificatore naturalmente se metto private avete l'abbiamo già detto una variabile private non può essere né letta né scritta dall all'esterno della classe solo i metodi definiti dentro la classe stessa possono accedere direttamente alla variabile tutti gli altri metodi all'esterno devono utilizzare i metodi ghetti metodi set c'è poi una terza via che l'attributo lo specificatore di accesso protected questo attributo può essere utilizzato dalle classi che appartengono allo stesso package quindi se ho delle classi nello stesso package e utilizzo l'attributo protected invece che private è possibile accedere direttamente all'oggetto alla variabile distanza oppure se uso protected le sotto classi della classe in cui questo attributo è definito possono accedere direttamente all'oggetto anche se sono in package diversi quindi protected è uno specificatore di accesso che permette di accedere direttamente ad una variabile quindi senza metodi ghetti set se questa variabile è definita in una super classe nella super classe diretta oppure se è definita in una classe in un package dove anche i metodi che vogliono accedere sono in classe dello stesso package stesso discorso vale anche per i metodi quindi qua c'è una tabella riassuntiva che ci dice che con il public un metodo una classe oppure una variabile è accessibile ovunque dalla stessa classe dalle classi dello stesso package da sotto classi in differente package da differente package non sotto classe con il protected accessibile ovunque tranne in classi che non sono sotto classi e che si trovano in package differenti lo specificatore friendly che però vi suggerisco di non usare che vuol dire non mettere nel private nel public nel protected permette l'accesso se dalle classi dalle dalla stessa classe oppure delle classi che sono nello stesso package ma non negli altri casi e poi private è quello più restrittivo che ammette l'accesso consente l'accesso in lettura e scrittura sono dei metodi della stessa classe prendi assolutamente no però il protected giusto sapere che esiste questa possibilità anche perché in alcuni programmi se vi capita di vedere qualche programma aspetto da altri magari potreste vederlo e uno dice ma che è sto protected io non ho mai visto quindi giusto parlarne però sappiate che nelle specifiche di java il protected è da usare con molta cautela ecco diciamo questo non è che non bisogna usarlo mai bisogna fare attenzione ad utilizzarlo Sì No 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 No